In via Solferino, all'interno dell'Accademia del Corriere della Sera, si trova l'installazione città mineraria all'interno della Milano Design Week 2024. L'idea è quella di mostrare come attraverso la cassetta della frutta si possa in qualche modo riprogettare, ripensare l'intera città in una maniera un po' più ecologica, più verde se così vogliamo e quindi un po' più sostenibile. Personalmente mi ha fatto pensare a una storia disneyana realizzata da pezzi nello staffa diversi anni fa e vi lascio il link in descrizione per recuperare la scheda index di quella storia su cui magari prima o poi non dedicherò un video di Disney Comics e Science, per cui state in campana, che è un modo diverso per dire iscrivetevi al canale. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!